Ricomincia a marciare in campionato davanti ai propri tifosi. Affonda, dopo la Champions, di nuovo l'Azimut Modena nell'ottava di ritorno a meno 5 dalla fine della stagione regolare. La Lube Civitanova risorge dimenticando in fretta la sconfitta in Coppa Italia, con la concentrazione di chi non vuole fallire i prossimi obiettivi che rimangono, Champions League e stagioni di Superliga. Nulla sarà facile, ma dopo 7 finali perse, al di là della cabala, c'è voglia di tornare a vincere. Certo è che Fefe De Giorgi, tornato in corsa nel campionato più bello del mondo, sta riuscendo a dare una vera identità ad un roster di tanti campioni, soprattutto nella prima parte della stagione difficili da gestire. E con la Modena di Velasco, un'altra prova di grande maturità, utile per staccare ulteriormente l'avversario e per tornare a mettere pressione alla capolista Perugia. Non è abbassato l'effetto Ivan Zaysev per Modena, brutta gara e un passo indietro. Per Civitanova, tanta qualità e tanti fenomeni. Bruno Guantorena e Svetan Sokolov, MVP della gara. 5 muri e 5 ai sottanta per cento in attacco per il bulgaro, per una lube che ha fame di tornare protagonista.